Amici, quanti di noi hanno capito esattamente cos'è il metaverso? Forza, alzate le mani, io faccio qua in studio... È un osso? È un osso il metaverso? No, quello è il metatarso e il metacarso. E ne parla il nostro Marco Camigiani Calzone. Il metatarso, il metaverso... Eh, guarda... Forse avete già sentito parlare di metaverso, ma che cos'è? Perché i giornali ne parlano con grande entusiasmo e lo definiscono il futuro di internet. Ma sarà davvero così? Adesso, grazie alle spiegazioni del nostro MCC, io non dico che ne so molto di più, ma qualcosa ho capito. Abbiamo capito qualcosa.